Siamo nella chiesa di Castello che dicono sia il più antico insediamento genovese. Qui si parla, se c'è sembra, un tempio dedicato agli dei mani. Qui ha avuto inizio la nostra, diciamo, idea del libro. Un giorno che non eravamo assolutamente intenzionati a visitare questa chiesa, assolutamente. E poi per puro caso, per puro anticipo di appuntamento, ci siamo ritrovati a avere del tempo libero e abbiamo approfittato visitando questa chiesa che non ci ha fatto bene solo alla cultura, ma anche allo spirito naturalmente. Fortunatamente abbiamo trovato una persona che ci ha guidato in questo percorso, in questa chiesa. E tra le tante cose scupefacenti di questo posto abbiamo notato, ci ha fatto notare, per la verità, due tavole che sono un cuffido, che sono un bottino del crociate, pare, che se sono in realtà due suori del Corano, sulla costruzione del mondo, sulla Genesi. La cosa ci ha, come dire, ci ha fatto riflettere, nel senso che in una chiesa cattolica trovare due suori del Corano ci ha lasciato stupiti, perplessi. No.